Tornano da Verona con in tasca il premio Masaf per la categoria Vini Tranquilli, i vini del Profagri, il Fiano IGP Colli di Salerno Capoclasse e l'Aianico IGP Colli di Salerno Penna Rossa premiati durante l'edizione 2024 del Vinitaly in corso di svolgimento nel Veneto. Prodotti nella scuola guidata dalla dirigente scolastica Carmela Sant'Arcangelo, i vini si sono classificati nelle prime posizioni di merito dell'ottavo concorso enologico dedicato agli istituti agrari d'Italia. Una meravigliosa soddisfazione anche perché sono entrambe le etichette che sono state assaggiate dai tecnici del Ministero e del Crea e sono state degne di una valorizzazione importante. Quindi siamo molto soddisfatti anche del fatto che in realtà se andiamo a vedere l'intera graduatoria ai primi quattro posti ci sono tre istituti della Campania. Quindi vuol dire che gli istituti tecnici e professionali dell'agricoltura che si occupano di vino stanno lavorando per la qualità e perché la qualità dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze possa essere portata in giro non solo per l'Italia ma io oserei dire nel mondo. Non è la prima volta che i vini del Profaghi vengono premiati e proprio in virtù del premio ricevuto lo scorso anno al concorso Bacco e Minerva quest'anno la scuola ospiterà la edizione 2024 del premio che è prossima ad arrivare in provincia di Salerno portando istituti agrari da tutta Italia. Sì è proprio così e in effetti la conferma che abbiamo avuto a Vinitali è una conferma proprio perché lo scorso anno il Penna Rossa si è aggiudicato il premio di migliore vino prodotto in assoluto aglianico prodotto dalle scuole che appunto hanno una cantina. In forza di questa vittoria 8, 9 e 10 maggio ospiteremo il concorso nazionale a cui parteciperanno 30 istituti di tutto lo stivale per portare le loro eccellenze. Ospiteremo chiaramente questa manifestazione che ci vede impegnati per tre giorni partendo dalla pianta e quindi dalla sede nella quale noi abbiamo il vigneto che è Capaccio dal next di Capaccio fino ad arrivare al luogo di produzione, imbottigliamento che è il luogo della vendemmia e dell'imbottigliamento appunto che è poi qui a Salerno. Quindi una tre giorni con gli istituti in cui parleremo anche di filiera vitivinicola ed olivole aria qui in Campania.